www.molizopole.it, notizia interessante per le piccole e medie imprese, sì è la copertura per quanto riguarda la garanzia del fondo per le piccole e medie imprese che sale da 2 milioni e mezzo a 5 milioni di euro, quindi raddoppia, cresce fino a 5 milioni di euro per singola impresa, quindi quello che può garantire il fondo per le piccole e medie imprese, quindi raddoppiando il limite attuale. Vi riporto poi l'articolo per quanto riguarda la nota per il calcolo dell'ESL, cioè l'equivalente a sovvenzione all'ordo, che verrà verificato per le normative europee per aiuti di Stato, ma si è trovata questa soluzione per consentire fin da subito di arrivare alla copertura di 5 milioni di euro a garanzia risolvendo il problema del calcolo dell'ESL in attesa del nuovo metodo che si è individuato dalla Commissione europea. Quindi vi riporto la dichiarazione ufficiale del Medio Credit Centrale, interessante opportunità per le piccole e medie imprese. Alla prossima!